E' stato dimesso dall'ospedale Nigarda Christian Di Martino, l'agente della Polizia di Stato aggredito nella notte tra l'8 e il 9 maggio alla stazione di Lambrate di Milano da un uomo che stava lanciando pietre contro un treno. Nel tentativo di provare a fermarlo, il vice spittore Di Martino era stato accoltellato tre volte al torace e all'addome. Ricoverato in condizioni gravissime in terapia intensiva, è stato operato e sottoposto a numerose trasfusioni prima di essere considerato fuori pericolo e infine dimesso dopo 20 giorni di degenza. Nato a Ischia, 35 anni ma salernitano in tutto e per tutto, Di Martino ha ricevuto in ospedale la visita di numerosi rappresentanti delle istituzioni, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al presidente del Senato Ignazio Larussa, oltre a quella del calciatore dell'Inter Federico Di Marco, sposato con la sorella della fidanzata dell'agente. Grazie.